shopping a milano quando milano è vuota è una goduria vero bene lei non parla perché si emoziona adesso andiamo a bere un caffettino tutto da ragazzi milanesi allora sono un po qua in relax sul mio letto e volevo condividere con voi la gioia nel ricevere dei feedback tutti quei feedback che mi mandate su guvi e sulla vostra felicità di ottenere dei risultati perché la nostra filosofia è veramente lavorare da dentro per arrivare a coccolarci anche fuori una cosa sulla quale siamo veramente molto molto forti è combattere la ritenzione idrica gli anestetismi della cellulite e da quando uscite questo integratore qua che io sto usando in questi giorni in questi mesi veramente le persone impazziscono adesso vi faccio vedere o sentire un vocale che ho mandato una mia amica che mi ha proprio dato una felicità incredibile volevo dirti che le tue pastigliette al cacao meravigliaio li politiche unite a sceppi orbuti una bomba cambiano la pelle della gamba la gamba la ritenzione idrica top e oltre ai messaggi delle persone ovviamente a me più vicine che hanno il mio numero di telefono un sacco migliaia di messaggi di soddisfazione da parte vostra every day e Grazie per la visione! Grazie a tutti!